si è conclusa a potenza la settimana di esercitazione dei vigili del fuoco della regione per testare il nuovo sistema di comunicazione satellitare two way sono stati simulati alcuni scenari di emergenza culminati oggi in un'esercitazione durante la quale sono state verificate potenzialità ed efficacia del sistema i vigili del fuoco lucani si sono contraddistinti per la grande partecipazione e l'ottima professionalità dimostrata durante le fasi dell'addestramento soprattutto in quella di simulazione di un incidente stradale che ha visto coinvolta un'utilitaria finita senza controllo contro il muro di un edificio dove sono rimaste intrappolate diverse persone il sistema two way è caratterizzato dalla capacità di trasmissione satellitare di dati tramite internet dalla possibilità di seguire in tempo reale dal centro operativo nazionale e da tutte le sedi dei vigili del fuoco l'evoluzione delle operazioni di soccorso in qualsiasi punto del territorio per un miglior coordinamento